Buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Allora, sì, mi presento, io sono Gianluca Gangini di DNA, una società che si occupa di digital marketing da più di dieci anni, in particolare Magnews è la business unit focalizzata sull'email marketing. Quindi realizziamo una piattaforma software, abbiamo un'agenzia che si occupa di copywriting, operatività in view newsletter, grafica e quant'altro, un gruppo che si occupa di strategia e un gruppo che si occupa di lead generation, quindi di acquisizione di nuovi contatti. Chiaramente oggi non sono qui a parlarvi della nostra piattaforma, dei nostri servizi, ma volevo darvi delle idee, delle idee che spero siano utili, nuove o che magari mettete già in pratica nella vostra attività quotidiana e che possiate, diciamo, da domani cominciare da subito a sperimentare. Io ho dato un taglio alla presentazione molto legata alla vendita online, cioè all'e-commerce, visto che questo seminario, pur essendo di email marketing, è inserito in un piano legato all'e-commerce, però laddove, appunto, chi di voi lavora direttamente o indirettamente con la finalità di e-commerce, di vendita online, giusto per farmi un'idea della platea. Gli altri spero che siano comunque interessati al tema della comunicazione online, dell'email marketing, magari per pubblicizzare i loro prodotti, i loro servizi, la loro azienda, anche qualora non vendano online o non ancora. In generale, quindi, laddove c'è una focalizzazione alla vendita, potete vederlo in senso più lato, come una focalizzazione all'azione richiesta al vostro prospero, al vostro cliente, che sia iscrivervi al vostro programma fedeltà, venire nei vostri negozi, acquistare i vostri prodotti anche non online. Volevo partire dandovi subito questo spunto di scaricare questa ricerca che abbiamo condotto con Nielsen sui digital marketing trends del 2012, che è divisa in diverse sezioni, ce n'è una dedicata all'email marketing, una all'e-commerce e una ai social network. È una ricerca molto ampia, molto ricca, di cui in queste slide, che comunque avrete a fine dell'incontro, avete un piccolo sunuto, ho messo solo qualche slide significativo, però potete scaricare online la versione completa. I dati, ovviamente, sono molto importanti, le ricerche in mercato, perché ci danno un punto di partenza da cui partire. E quindi, io appunto non ho partecipato al primo incontro in cui si parlava dei dati dell'e-commerce in Italia, però appunto li conosco, e l'idea della desolante situazione italiana, soprattutto rispetto alle altre nazioni europee, a livello di e-commerce, in realtà può essere un dato molto triste a livello di Italia, nazione, quando ci presentiamo in Europa, eccetera, ma in realtà è un dato positivo per chi deve andare online e vendere online, perché c'è un grande, un ampio margine di crescita, un'ampia possibilità, no? Un gap da colmare che è un'opportunità commerciale per chi vuole vendere online. Quindi tutti i dati vanno sempre letti nell'ottica giusta di quello che ci prefiggiamo come obiettivi. In particolare, questa breve slide sui canali di comunicazione, molti che si approcciano al digital marketing, all'e-commerce, si pongo la domanda, ma è meglio andare sui social, è meglio utilizzare le newsletter, è meglio andare sul mobile. In realtà la verità è che sono canali diversi, con scopi diversi e con modalità di comunicazione diversa, che entrambi sono utili, tutti sono utili, e la forza sta, poi vedremo, nel creare delle sinergie. Ognuno ha una sua peculiarità e ognuno è più adatto a un certo scopo, e i sondaggi ci dicono che l'email marketing è ancora il mezzo migliore per veicolare delle conversioni, delle vendite, delle promozioni, piuttosto che i social, piuttosto che il mobile. Poi vedremo, probabilmente anche nelle successive presentazioni, poi già se ne è accennato, la necessità di personalizzare le comunicazioni email, per farle diventare veramente comunicazioni e non solo invii massivi di promozioni. Questa personalizzazione viene proprio, vediamo, dai dati richiesta dai clienti, dagli utenti. E quindi bisogna mandare i contenuti interessanti, pertinenti. Quali sono questi contenuti? Anche qui la ricerca un po' ci aiuta sulle tematiche più interessanti per gli italiani. Chiaro che uno, se offre servizi di un certo tipo, non è che si può mettere a pubblicizzare viaggi se in realtà vende arte e cultura. Però anche nel proprio offerta di servizi e di prodotti, vedremo c'è modo e modo di proporre i prodotti e i servizi più attinenti agli interessi specifici dei nostri contatti. Allora, entriamo un po' nel vivo di queste idee e suggerimenti che vorrei darvi. Partendo appunto dai, fra virgolette, canali laterali, che sono i social o il mobile, e come questo c'entrano invece col canale email marketing. Sui social, un'attività molto importante per fare da red marketing è quella di lead generation, cioè di acquisizione dei contatti. Perché i social, abbiamo visto, come potrete aver visto o sperimentato in prima persona, se gestite delle pagine Facebook, aziendali o quant'altro, funzionano molto bene per creare engagement, viralità, per avere un bel numero di fan con cui parlare, creare la community. Però, non dimentichiamoci che questi contatti sono contatti del social network, anche se sono nostri fan, però sono in quell'ambito lì, e quindi è il social network a decidere, nel caso specifico, io ho messo l'esempio di Facebook, ma vale per tutti i social network, a decidere le regole con cui parlano, a questi contatti, a decidere i modi, ad esempio quando è cambiata di recente la forma grafica, timeline, delle fan page, tutti si sono dovuti adattare, se un domani cambieranno le regole di policy con cui io scrivo, ottengo i dati ai miei contatti, diciamo che quelli sono i contatti del social network. Quindi invece per fare direct marketing efficace, per poter parlare one to one, è importante acquisire i contatti, che diventino propri contatti personali con cui comunicare direttamente, ad esempio via email. E questo viene molto bene sui social perché è possibile preparare dei form in varie modalità, quindi con giochi di concorso, con una richiesta esplicita di iscrizione al newsletter, è possibile popolare questi form in automatico se sono delle applicazioni, quindi semplicemente accettando, nel caso di Facebook, il fatto di condividere i propri dati con l'azienda, oppure con dei semplici form precompilati, oppure visto che i social network funzionano anche molto bene come sistema di FAQ, di customer care, di assistenza ai clienti, sfruttare tutte le occasioni di contatto diretto, quindi anche con un form all'interno della pagina FAN, in cui fornisco un servizio di assistenza ai clienti, in questo caso, in cui l'utente può mettere i suoi dati, contattarmi, e lo sfrutto anche per acquisire il consenso, a mandargli poi comunicazioni dirette, quindi acquisire quel contatto nel mio database, con il consenso privacy, poi a comunicargli in seconda battuta, con i miei tempi, con le mie modalità, newsletter, promozioni o quant'altro. Quindi l'acquisizione dei contatti è molto importante per il proprio database. E qui abbiamo un'altra modalità legata più al mobile, sempre di acquisizione contatti, molto diversa, chiaro non si va sui grandi numeri, ma si va su invece i contatti caldi, ovvero l'acquisizione quando mi trovo nei punti di contatto one to one, quindi alle fiere, agli eventi come questo, se avete un negozio, quello è un punto importante in cui acquisire un contatto. Chiaro che un discorso è, viene qualcuno nel mio negozio, nella mia azienda, eccetera, gli propongo i servizi e poi gli lascio una generica brochura o il mio biglietto avviso che ha scritto vai sul sito e lasciami dati. Sì, magari. Invece quando è lì, gli sto parlando, eccetera, è un momento buono per acquisire il contatto. E acquisirlo già in tempo reale, in digitale, online, con un sistema di doppio opt-in che fa la verifica delle email, piuttosto che invece scambiarsi, ad esempio nel nostro caso di B2B, scambiarsi un biglietto da visda, aspettare che poi passano i giorni, arrivo a casa, lo inserisco nel CRM, lo richiamo, lo risento, è già passato un po' di tempo. Quindi faccio questo esempio di questa applicazione che mi ha realizzato per iPad, che è una semplicissima applicazione in cui scelgo un operatore e ho un form di iscrizione che ha il vantaggio di funzionare, ad esempio, anche offline. Quindi non è un form online, vado sul sito, compilo, ho i tempi, la rete, va, non va. Quindi dovunque sono, in qualunque momento, registro i dati, lui raccoglie i dati sul dispositivo e poi quando voglio li sincronizzo. Nell'istante in cui li sincronizzo, quindi appena ho la rete, appena ho la disponibilità, nell'istante in cui li sincronizzo, come dicevo, parte la mail di doppio opt-in, di verifica dell'email e quindi di accettazione, e che è la welcome email che a tutti gli effetti poi ha, è un momento di aggancio forte del contatto sul quale bisognerebbe lavorare molto, perché è la fase di un contatto caldo. È chiaro che questa soluzione lo scala su grandi numeri, non è come di social network dove posso avere centinaia di migliaia di fan e cercare di portarli tutti all'acquisizione, però è un contatto diretto di contatti molto caldi, che quindi vale la pena ricontattare subito. Un altro punto forte che possono portare i social network all'email sono i contenuti, ovviamente, perché quello è un punto in cui si generano molti contenuti, si generano contenuti interessanti per gli utenti, per il semplice motivo che, se gestite correttamente i social network, la maggior parte dei contenuti dovrebbero essere appunto i commenti degli utenti, i contenuti generati dalla vostra community, più che le informazioni che l'azienda mette a disposizione, e quindi sono contenuti, perché no, sfruttabili anche nelle email. Molti hanno questo problema di, fra virgolette, diciamo, non sapere cosa dire nelle email, soprattutto chi vende online, e tende solo a fare delle promozioni, promozioni di prodotti. Però invece il contenuto per creare engagement, per creare, diciamo, relazione con il cliente, è importante, e perché non sfruttare i contenuti dei clienti stessi. Quindi, da un certo punto di vista, posso usare i contenuti dei social network per alimentare la mia email, la mia newsletter, anche la mia stessa promozione, invece che proporre solo un prodotto e dire quanto costa o quanto è scontato, aggiungere direttamente i commenti degli utenti, senza dover far sì che l'utente sia lui ad andare online, a cercarseli, a sfogliarsi, che quindi richiede tempo e fatica. Viceversa, abbiamo visto che recentemente molti, anche social network, hanno iniziato a utilizzare l'email proprio per stimolare la propria community, perché ciò che si dice nella community è molto veloce, no? Tutte le conversazioni, fra virgolette, si bruciano molto in fretta, quindi c'è qualcuno che non partecipa attivamente, quindi per riattivare i propri contatti su Facebook, su Twitter, sui social network, a quel punto tramite social network mandare un email, ad esempio, con i post più recenti, i post più interessanti, quelli più votati, più commentati, per tenere viva l'attenzione, per portare a conoscenza di alcuni topics, anche chi non è un membro attivo della community, avere i follower un po' più attivi. Quindi, come dicevo inizialmente, non sono due canali contrapposti, ma sono due canali che, se ben utilizzati, si alimentano a vicenda. Veniamo invece all'email marketing vero e proprio, come fare l'e-generation e nurturing, cioè il mantenimento della relazione tramite l'email. Qui vediamo già qualche esempio di email che, diciamo, sembrano le solite email, invece hanno delle particolarità, certe non si vedono, perché magari, tipo questa di Dolce Gabbana, la sua particolarità era essere targetizzata, era un invito esclusivo solo a un ben definito gruppo di utenti, geolocalizzato per l'apertura di un negozio. Quindi è inutile mandare un'email, un'apertura di un negozio a tutto il mondo, a tutta Italia, se tanto la capienza di quel negozio è tot e ho già sufficienti contatti in loco, è meglio mandare un invito solo agli utenti interessati. Qui è il caso di Ducati che manda email transazionali di contenuti, quindi di servizio per l'assistenza tecnica, alle moto e ne approfitta per fare una personalizzazione per cui in base alla moto, in questo caso è il Monster, e siccome c'è una promo legata al Monster, approfitto dell'occasione, so che hai un Monster, solo chi ha quella tipologia di moto vedrà la promozione legata a quella moto, perché so che devo fare un passaggio in officina, già che ci sono, ti dico che ci sono dei servizi aggiuntivi, oltre alla manutenzione, qui tipo la verniciatura del serbatoio.